ben trovati un caro saluto a tutti in particolare amici della casa editrice ronzani di vicenza sono claudio rorato richiamo vi parlo dalla mia casa di ponte di piave in questo di in questo momento di isolamento necessario e opportuno opportuno perché ci aiuterà a uscire più velocemente da questa tragedia che ci è capitata addosso in questo momento i libri sono un bene prezioso ci aiutano ad evadere ci aiutano però anche a parlare hanno con noi stessi cosa della quale avevamo bisogno vi parlo oggi di un piccolo libro che ho scritto nel 2006 un libro che ho scritto con il cuore con amore quasi per saldare un debito di riconoscenza nei confronti di goffredo parise che ho conosciuto e frequentato per lungo tempo goffredo parise che per me ha significato grande maestro assegnato la mia formazione umana e culturale ho scritto questo libretto nel 2006 nel momento in cui la piccola casa di salgareda la casa rosa diventava un museo letterario un piccolo preziosissimo museo letterario e nel 2019 lo scorso anno la ronzania editrice ha deciso di ripubblicarlo e io vi invito a procurarvi questo libro nelle librerie o chiedendolo direttamente alla ronzania editrice perché per voi sarà una sorpresa in quanto vi sono molte informazioni sia sull'opera di goffredo parise ma ancora di più sull'uomo visto da prospettive insolite e poco note vi leggo ora alcune righe per farvi capire per darvi un po' l'idea il senso di questo scritto ho scritto questo piccolo libro nel 2006 in un momento per me molto felice grazie a una sequenza di fortunate circostanze vent'anni dopo la morte di goffredo ero riuscito a far acquistare dagli amici Enzo Lorenzon e Moreno Vidotto la piccola casa sul piave dove lo scrittore aveva abitato dal 1970 al 1981 illustrando nella storia volevo che le mie pagine accompagnassero la casetta nel suo divenire casa museo aperta al pubblico come era nelle intenzioni dei nuovi proprietari goffredo parisi ha avuto una parte significativa nella mia famiglia e io stesso ho frequentato quegli spazi vivendo con lui momenti di intenso stimolo culturale di vivaci discussioni e giovanili polemiche e così pure di grande tristezza dopo che la malattia lo ebbe costretto a lasciare la casa sul fiume per trasferirsi a Ponte di Piave non avevo più varcato la soglia forse per inconsapevole rifiuto mi sono ritornato agli inizi della primavera nel 2006 accolto dai fratelli Rizzo ai quali Parise l'aveva venduta nel 1984 subito sono rimasto sopraffatto dalla folata volgente dell'aroma che lì avevo respirato per anni l'odore della casetta dopo così lungo tempo quell'odore umido di caligine e muffa di legno e sentori selvatici restituiva ancora pressoché intatta l'anima olfattiva di quel luogo ho provato una violenta vertigine quale talvolta mi coglie quando un odore evoca in me in modo quasi tangibile la presenza di una persona che non c'è più e con la quale ho avuto una felice consuetudine non i suoni o le immagini soltanto gli odori possono un simile incantesimo io vi faccio un invito anche a nome di Moreno Vidotto e di Enzo Lorenzon appena questo momento difficile sarà passato a breve spero ci troveremo tutti a Sergareda nella casetta per un grande momento di festa momento conviviale di letteratura, poesia ma soprattutto di gioia per la libertà ritrovata nel frattempo vi ripeto, vi consiglio acquistate questo piccolo libro ve lo potete procurare direttamente scrivendo alla casa editrice Ronzani di Vicenza e qui colgo l'occasione per salutare Beppe e tutti gli amici che la sostengono e vi faccio un augurio l'augurio di uscire da questa esperienza diversi più forti più felici anche, si può e soprattutto più consapevoli e capaci di parlare con voi stessi un abbraccio virtuale a tutti quanti e grazie grazie a tutti grazie a tutti